Qui a Inforelea ho avuto l'occasione di sviluppare le skill con il programma Unreal Engine. La prima cosa che ho pensato è che questa tecnologia la posso implementare alle mie skill, quelle che ho imparato all'università. La virtual reality in questo momento storico è piuttosto importante perché c'è un grosso treno che sta partendo grazie a Facebook che è quello del metaverso. Non rimanere indietro su queste tecnologie è una cosa particolarmente importante per qualunque campo tecnologico. Abbiamo avuto la possibilità di imparare varie tecniche che oggigiorno iniziano a svilupparsi sempre di più nel mondo sia della produzione cinematografica che della produzione VR intesa come esperienze giochi. Stavo esattamente cercando un corso di blueprint in VR con Unreal, il corso che è capitato a Fagiolo e quindi eccomi qua. Per fortuna mi hanno preso e e ora siamo qui a produrre in VR. Un mashup tra la realtà virtuale e il mondo della progettazione e il mondo del design. Infine di aggiungere piano piano dei tasselli che possono andare a soddisfare un po' anche la richiesta di mercato. Gli ambiti in cui si può arrivare a lavorare sono molto vasti. Voglio diventare un game designer specializzato in realtà virtuale.